Ho incontrato il leader del partito nazionalista Simon Busutil, ci conosciamo da tanti anni, abbiamo parlato della situazione dell'immigrazione, della crisi economica, del ruolo dei paesi del sud dell'Europa e degli impegni futuri che dovrà svolgere il Parlamento europeo soprattutto per avvicinare i cittadini alle istituzioni. Siamo trovati in perfetta sintonia, ringrazio anche tutti i parlamentari maltesi del partito nazionalista che mi hanno sostenuto durante la campagna elettorale per diventare Presidente del Parlamento.